In questo video sul calcolo delle probabilità vediamo una sorta di simulazione di prova d'esame tutta imperniata appunto sul calcolo delle probabilità. Ci sono due problemi e sette quesiti. Ho riportato il testo senza copiarlo quindi leggiamo il testo degli esercizi dei problemi uno alla volta. Primo problema abbiamo un urna che ha 12 palline 8 rosse 4 verdi. Primo caso ne estraiamo contemporaneamente 5. Vogliamo calcolare la probabilità di averne 3 rosse e 2 verdi. Allora vediamo subito questa prima questione. N numero delle palline dell'urna 8 rosse 4 verdi. Casi possibili ovviamente sono le cinquine non ordinate che si possono ottenere con 12 numeri quindi 12 su 5. Casi favorevoli se ne vogliono ottenere 3 rosse e 2 verdi quindi è il prodotto delle terne non ordinate che si possono ottenere con 8 elementi per il numero delle coppie sempre non ordinate che si possono ottenere con le 4 palline verdi. Quindi sostituendo e facendo i conti probabilità richiesta è quella che vedete lì non ho sviluppato i calcoli nel caso. Poi la richiesta B dice si estrae per 6 volte una pallina dall'urna rimettendola sempre nell'urna prima della successiva estrazione. Dobbiamo sapere qual è la probabilità di avere 4 palline rosse in 6 estrazioni. Questo è un esempio di cosiddetta probabilità binomiale in cui la probabilità di successo cioè quella di ottenere una pallina rossa è data da 8 dodicesimi perché 8 sono le palline rosse sul totale delle 12 palline quindi 2 terzi e di conseguenza la probabilità di non avere successo cioè di non ottenere una pallina rossa ovvero di ottenere una pallina verde è data da 4 dodicesimi perché 4 sono le palline verdi sulle 12 in totale nell'urna. Quindi per rispondere al quesito la legge della probabilità binomiale ci dice che probabilità richiesta è data da 6 su 4, 6 sono i tentativi e 4 i successi per la probabilità di avere successo 4 volte moltiplicata per la probabilità di non avere successo 2 volte l'ultima richiesta il primo problema dice se estrae una pallina dall'urna se è rossa si estrae una carta da un mazzo di 40 carte napoletane se invece è verde la carta la si estrae da un mazzo di 52 carte francesi sapendo che è uscito un asso si vuol sapere qual è la probabilità che sia stata estratta una pallina rossa quindi è un problema di probabilità condizionale e qui è comodo schematizzare il tutto con un albero eccolo qua pallina rossa si estrae con probabilità due terzi quella verde con probabilità un terzo se la pallina è rossa un asso si estrae da un mazzo di 40 con probabilità un decimo se invece la pallina è verde un asso si estrae da un mazzo di 52 carte con probabilità un tredicesimo dobbiamo calcolare quindi la probabilità condizionale che vedete scritta allora la probabilità di estrarre un asso dopo aver estratto una pallina rossa è data dal prodotto delle probabilità dei due rami che si trovano sul percorso le probabilità che si trovano sui due rami del percorso che collega estrazione una pallina rossa con una foglia corrispondente ad asso quindi due terzi per un decimo mentre la probabilità di estrarre un asso qui i percorsi sono due si moltiplicano le probabilità sui rami di questi percorsi poi si sommano i prodotti così ottenuti il risultato è 13 diciottesimi il problema 1 è quindi concluso possiamo leggere il testo del problema 2 allora un giocatore di poker chiede di sedersi a uno di tre tavoli da gioco t1 t2 t3 con probabilità un mezzo gioca il tavolo 1 con probabilità un sesto al secondo e con probabilità un terzo all'ultimo poi vedete indicate le probabilità di vittoria e per ognuno dei tre tavoli abbiamo due richieste primo sapendo che il giocatore fa una partita e perde qual è la probabilità che abbia giocato al tavolo 2 secondo fa un'altra partita vince qual è la probabilità che abbia giocato al tavolo 3 allora schematizziamo quindi anche qui è un problema di probabilità condizionale ecco qui l'albero ci permette di risolvere il problema ci sono i tre tavoli con le rispettive probabilità e poi le probabilità di vittoria e di conseguenza di sconfitta in ognuno dei tre tavoli ovviamente vista per vittoria vi soprassegnato per sconfitta nel caso A dobbiamo calcolare la probabilità che si sia seduto al tavolo 2 sapendo che abbia perso lo sto a commentare più di tanto ormai la formula è nota e quindi la formula è nota è come calcolare le singole probabilità oppure quindi sostituendo i valori numerici corrispondenti si ottiene 7 trentanovesimi seconda probabilità condizionale che dobbiamo calcolare è la probabilità che si sia seduto al tavolo 3 sapendo che abbia invece vinto quindi anche qui basta guardare i percorsi corrispondenti dell'albero probabilità che si sia seduto al tavolo 3 e abbia vinto è il prodotto 1 terzo per 0,3 cioè 3 decimi probabilità che abbia vinto ci sono 3 percorsi si moltiplicano le probabilità sui rami dei percorsi e poi si sommano i prodotti risultato 2 centimi passiamo adesso ai quesiti allora il primo si sceglie a caso un numero reale compreso tra 0 e 1 anzi due numeri reali se y compresi tra 0 e 1 estremi inclusi bisogna calcolare probabilità richieste problema simile ad altri già visti in precedenti video dunque qui e sarebbe da rispondere a un quesito vero o falso io ovviamente ho fatto i conti dopodiché si vede se è 0 oppure no allora andiamo un po' a vedere il svolgimento allora il primo quesito bisogna calcolare la probabilità che x è uguale ad y quindi che il punto scelto all'interno del quadrato che vedete in parte tratteggiato e in parte delimitato dei due assi cartesiani il punto all'interno di questo quadrato scelto a caso deve trovarsi sul segmento oa che fa parte della bisettrice del primo quadrante beh i casi possibili sono dati dall'area del quadrato i casi favorevoli sono dati dall'area del segmento oa ma come già detto a suo tempo un segmento nel piano ha area 0 quindi la probabilità richiesta è 0 poi nel secondo vogliamo sapere quella probabilità che il punto scelto sempre all'interno del quadrato giaccia sull'arco di parabola oa i casi favorevoli e possibili sono quelli di prima i casi favorevoli sono costituiti dai punti appartenenti all'arco suddetto l'arco ab ma anche un arco di parabola e in generale la lunghezza di un tratto di linea nel piano ha area 0 in conseguenza anche questa probabilità è 0 poi probabilità che un punto scelto all'interno del quadrato sia tale che uno dei due punti costituiti cioè sia tale che la sua ordinata sia minore o uguale di 1 meno x al quadrato quali sono i casi favorevoli? sono costituiti dalla semisuperficie del segmento parabolico individuato dall'asse x sulla parabola y uguale 1 meno x 2 perché semisuperficie? perché manca l'altro e l'altra parte di segmento con l'ascissa compresa tra meno 1 e 0 ora come sappiamo l'area di un segmento parabolico è 2 terzi di quella del rettangolo circoscritto non c'è bisogno degli integrali per calcolarla il rettangolo circoscritto ha rettangolo completo ovviamente ha altezza 1 e base 2 quindi l'area del segmento parabolico è 2 terzi di 2 ma qui ci interessa la metà dell'area del segmento parabolico quindi moltiplichiamo quello che ho detto prima per un mezzo il risultato è 2 terzi che è anche la probabilità richiesta infine dobbiamo scelto un punto a caso dobbiamo calcolare e la probabilità che l'ordinata sia compresa tra x e la radice quadrata di x non cambiano i casi possibili quelli favorevoli sono costituiti dall'area della zona tratteggiata che è data dall'area del semisegmento parabolico che abbiamo già calcolato prima meno quella del rettangolo del triangolo scusate che ha base altezza uguali a 1 quindi che ha area un mezzo di conseguenza l'area tratteggiata è un sesto e un sesto è anche il valore della probabilità richiesta perché i casi favorevoli sono costituiti dalla zona di area 1 che corrisponde all'area del quadrato siamo al secondo quesito andiamo a vedere il testo si estraggono simultaneamente due carte da un mazzo di 40 vogliamo calcolare la probabilità di non avere due figure oppure di avere due carte che siano o entrambe di bastoni o entrambe di denari allora le figure sono 12 e quindi le non figure sono 28 quindi la probabilità il numero dei casi favorevoli è costituito dalle coppie non ordinate che si possono ottenere con 28 elementi mentre i casi possibili sono le coppie non ordinate che si possono ottenere con 40 carte sia i bastoni che i denari sono 10 quindi ci interessano le case favorevoli per il punto B coppie non ordinate che si possono ottenere con 10 elementi però due volte o l'uno o l'altro in entrambi i casi sono il numero dei casi favorevoli è 10 su 2 e allora facendo il calcolo per il punto A dicevo appunto 28 su 2 fratto 40 su 2 mentre per il caso B 2,20 o estraggo 2 di bastoni o 2 di nari sono incompatibili quindi 2 volte 10 su 2 il numero dei casi favorevoli quelli possibili non cambiano il risultato 3 26 esercizio 3 quesito 3 per meglio dire gioco dell'8 primo evento esce un numero pari secondo evento esce un multiplo di 7 dobbiamo calcolare probabilità che vedete indicate e poi stabilire se i due eventi sono o no indipendenti allora andiamo pari i conti allora la cardinalità dell'evento e 1 esce un numero pari ovviamente 45 perché i numeri dell'8 sono 90 si alternano pari e dispari quindi multipli di 7 invece sono 12 allora probabilità che esca un numero pari ovviamente è un mezzo probabilità che esca un multiplo di 7 12 novantesimi cioè 2 quindicesimi poi di conseguenza l'evento e 1 ed e 2 insieme dei numeri pari multipli di 7 e 6 basta contarli pari e multipli di 7 quindi di quei 12 là 6 sono pari e 6 sono dispari quindi la probabilità dell'evento e 1 ed e 2 6 novantesimi cioè un quindicesimo invece la probabilità dell'evento e 1 o e 2 è formula la probabilità dell'unione di due eventi più p di e 1 più p di e 2 meno probabilità dell'intersezione 17 trentesimi ecco poi c'è da stabilire se gli eventi e 1 ed e 2 sono o no indipendenti beh due eventi sono indipendenti quando la probabilità della loro intersezione è prodotto e due probabilità ora probabilità di e 1 è un mezzo quella di e 2 è due quindicesimi se moltiplichiamo viene un quindicesimo che come vedete nel punto c è la probabilità della intersezione quindi sono indipendenti vediamo il testo dell'esercizio 4 probabilità che esca a testa lanciando una moneta effettosa e due quinti quella probabilità che su 7 lanci esca 5 volte testa è un esercizio di probabilità binomiale in cui la probabilità di avere successo è due quinti e quella di non avere successo ovviamente è tre quinti vogliamo calcolare la probabilità di avere 5 successi su 7 tentativi quindi sarà 7 su 5 coefficiente binomiale per due quinti alla quinta per tre quinti alla seconda e quindi eccolo qua poi esercizio numero 5 quesito numero 5 si lancia una moneta regolare quattro volte di seguito probabilità vogliamo sapere quella probabilità che venga quattro volte testa che esca due volte croce e infine che esca almeno una volta croce cioè che non esca mai testa e questo è l'evento complementare dell'evento esce quattro volte testa che è stato calcolato al punto A quindi per rispondere al quesito C basta fare 1 meno la probabilità che abbiamo ottenuto al punto A allora andiamo un po' a vedere quindi probabilità che esca quattro volte testa è un mezzo alla quarta un sedicesimo il punto B è una probabilità binomiale abbiamo quattro tentativi vogliamo sapere quale è la probabilità di avere due volte croce la probabilità di avere croce a un mezzo così come l'altra parte è quella di ottenere il testa perché la moneta non è truccata quindi questa probabilità è quattro su due per un mezzo alla seconda per un mezzo ancora alla seconda quindi in pratica se calcolate quattro su due è sei e l'altro è un sedicesimo quindi è sei sedicesimi cioè tre ottami e l'altro come dicevo prima è uno meno la probabilità calcolata al punto A quindi è quindici sedicesimi esercizio quesito sei abbiamo due eventi associati a una certa prova la probabilità dell'evento A è 0,3 quella dell'evento B è 0,5 quella dell'evento intersezione è 0,1 bisogna dire se è vero o falso che la probabilità di A unione B è 0,9 beh la probabilità di A unione B come sappiamo è probabilità di A più quella di B meno quella dell'intersezione quindi con i dati che abbiamo viene 0,7 per cui l'affermazione è falsa ultimo esercizio una gara partecipano 12 squadre numerate e vengono premiate le prime tre classificate allora le terne vincenti tenendo conto dell'ordine d'arrivo sono 1,320 probabilità che la squadra 10 faccia parte la terna vincenti è un dodicesimo andiamo un po' a vedere allora il 6 come vedete abbiamo appena detto allora n12 le terne vincenti non sono altro che le terne ordinate che si possono ottenere con 12 elementi quindi sono le disposizioni semplici di 12 elementi 1,320 quindi è vera l'affermazione poi in questo caso il numero dei casi possibili è sempre 1,320 bisogna calcolare la probabilità che la squadra 10 sia presente fra le rimanenti fra le rimanenti squadre cioè tra le restanti 11 e quindi le coppie ordinate che si possono ottenere sono 11 per 10 però tenendo presente che la squadra 10 può occupare o la prima o la seconda o la terza posizione il numero precedente 11 per 10 deve essere moltiplicato per 3 quindi la probabilità richiesta è un quarto e il video è concluso